Auto in fiamme in pieno centro poco prima delle nove in corso San Felice e Fortunato. Miracolosamente illeso il conducente anche per il tempestivo intervento prima di una pattuglia della Questura che con un estintore ha limitato i danni alla macchina, poi della squadra dei vigili del fuoco di Vicenza che ha completato lo spegnimento delle fiamme mettendo in sicurezza la Ford. Probabilmente elettriche le cause dell'incendio che sono al vaglio dei pompieri.